Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura subito la visita del Presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni. Questa mattina nelle zone terremotate dell'Aquilano, in particolare a Campotosto, prima tappa del tour abruzzese, una visita privata soprattutto per constatare lo stato di salute della Diga del Lago di Campotosto e poi a Capitignano dove ha inaugurato la scuola d'infanzia del Paese. Noi ci colleghiamo proprio con Capitignano dove per noi c'è Paolo Renzetti. Buongiorno Paolo. Grazie Alfredo, buongiorno in diretta da Capitignano. Siamo all'ingresso della scuola dell'infanzia che è stata inaugurata questa mattina a mezzogiorno dal Premier, dal Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Mattinata abruzzese per il Premier e il Capo del Governo che, come dicevi giustamente tu, come ricordavi qualche istante fa, è stato prima a Campotosto in una visita privata in cui ha visitato anche la Diga del centro in provincia dell'Aquila per poi spostarsi qui nel piccolo paese, sempre in provincia dell'Aquila. Siamo in una delle zone più colpite dagli ultimi eventi sismici per inaugurare la scuola dell'infanzia di Via Roma da cui vi parliamo proprio alle mie spalle. C'è l'ingresso e questa mattina erano davvero in tanti qui a Capitignano ad accogliere il Presidente del Consiglio. Arrivato qui proprio qualche minuto prima di mezzogiorno con qualche minuto di anticipo rispetto al programma protocollare accompagnato dal Commissario per la ricostruzione del terremoto Vasco Errani, dal Presidente della Regione Luciano D'Alfonso, dal Vice Presidente Giovanni Lolli e dal Sottosegretario alla Giunta regionale con delega alla Protezione Civile Mario Mazzocca. Il premere è arrivato, c'è stato il taglio del nastro, c'è stato poi un breve discorso di saluto del Capo del Governo e poi un'importante riunione che si è tenuta proprio all'interno qui della scuola dell'infanzia di Via Roma a Capitignano con le autorità politiche regionali e con alcuni sindaci del comprensorio aquilano di quei paesi colpiti dal terremoto. Noi abbiamo ascoltato proprio all'uscita, qualche secondo dopo la fine della riunione tenuta proprio presieduta dal Capo del Governo, abbiamo ascoltato per qualche istante proprio il Presidente del Consiglio. Se la regia è pronta possiamo andare ad ascoltare Paolo Gentiloni. Dei sindaci e delle comunità del territorio per mantenere viva la speranza e fare il più possibile per una ricostruzione accelerata. Quello che ho assicurato naturalmente ai sindaci è che oltre all'impianto legislativo e finanziario che è in campo in modo evidente ci sarà da parte del Governo e in mia personale un impegno continuo per esserci e per dare una mano. Grazie. E queste dunque le parole del Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Una brevissima intervista rilasciata alle decine e decine di giornalisti che questa mattina, già dalle prime ore del giorno, erano arrivati qui a Capitignano proprio per seguire da vicino la visita del Premier. Come vi dicevo dopo il taglio del nastro assieme al Presidente della Regione Luciano D'Alfonso il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni aveva salutato i presenti. C'erano anche tanti bambini della scuola dell'infanzia qui di Capitignano con le loro insegnanti e tanti, direi tutto il Paese di Capitignano proprio a salutare il Presidente del Consiglio. A proposito di saluto, ascoltiamo qualche passo proprio del saluto che il Presidente del Consiglio ha rivolto a Capitignano. Abbiamo bisogno di certezza, abbiamo credo un impianto legislativo che fornisce strumenti amministrativi e economici per la ricostruzione, anche se, ripeto, con tempi che non saranno semplici e abbiamo bisogno di un qualcosa che non è soltanto l'istituzione che può dare, ma che è qualcosa che la comunità, le nostre famiglie, i nostri comuni, lo spirito di comunità che anima le terre abruzzesi ci deve dare, e c'è la speranza. Perché quello che colpisce in quanto è accaduto nell'ultimo anno è la ripetizione dei fenomeni che abbiamo visto. E di fronte a ripetersi di fenomeni come questo, peraltro un ripetersi non nuovo in queste terre d'Abruzzo, è straordinario vedere come comunque ci sia una volontà di continuare, di ricominciare, di riaprire attività imprenditoriali, di inaugurare scuole, di continuare ad abitare questi luoghi. Lo faremo con tutto l'impegno possibile, ma lo dobbiamo fare con voi, con i sindaci, con gli amministratori locali, con i responsabili della protezione civile, ho capito il messaggio del Presidente D'Alfonso, con i responsabili delle forze armate, del volontariato, dei vigili del fuoco, con tutti coloro che hanno partecipato alla ricostruzione. Tutti insieme, con spirito di comunità e con speranza, ce la possiamo fare a sfruttare la meraviglia delle risorse di questo territorio. Il governo farà la sua parte, dobbiamo farla tutti insieme. A proposito di meraviglie del nostro territorio, Paolo, ti do anche una notizia che è stata da poco battuta dall'agenzia ANSA, perché è tornato a bruciare il Monte Morrone, si è riacceso un focolaio in località Pozzacchio, vicino a Rocca Casale. Chiaramente questa è stata un'altra emergenza che si è aggiunta in quest'estate a quelle purtroppo legate al terremoto. So che tra poco ci manderai in onda l'intervista fatta al Presidente D'Alfonso che ha anche parlato delle emergenze vissute in quest'estate. Esattamente, Alfredo, abbiamo ascoltato il Presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso che ha parlato anche del problema incendi in Abruzzo nella nostra regione in quest'estate, ha parlato anche della richiesta della regione Abruzzo dello stato d'emergenza e al Premier il Presidente Luciano D'Alfonso ha chiesto risposte importanti anche per quel che riguarda, in questo caso specifico, visto che siamo a Capitignano, la ricostruzione e la velocizzazione di tutte le norme riguardanti la ricostruzione. Si è poi parlato anche di quelle che sono state le problematiche dello scorso inverno con il maltempo che portò all'interruzione dell'erogazione di energia elettrica per diversi giorni in diverse zone della nostra regione. Dunque, un colloquio, un incontro franco tra il Presidente della regione Luciano D'Alfonso e il Presidente Paolo Gentiloni. Al termine di questa riunione abbiamo ascoltato proprio il Governatore. Intanto abbiamo preso atto della capacità dell'invaso di Campo Tosto non solo di trattenere acqua e di produrre energia idroelettrica ma anche di rendere certa la sicurezza. Noi tenevamo a questi tre aspetti, la capacità idroelettrica, la capacità anche idrica per l'economia agricola e poi soprattutto che tutto fosse in sicurezza anche per corrispondere a quell'assurda posizione comunicato della Commissione Grandi Rischi. A distanza di quasi 12 mesi ormai, noi siamo nella condizione di poter dire che quell'impianto è stato verificato e anche validato ulteriormente. Ci sono tutti i documenti sia di protezione civile che di eventuale evacuazione. Poi abbiamo ragionato con i vertici di Enel, con l'ingegner Starace alla presenza del Presidente Gentiloni per fare in modo che sia certo il programma di investimenti annuali quanto alla rete che distribuisce la copertura elettrica in Abruzzo. Ho detto anche che mai più deve verificarsi che la neve possa interrompere l'erogazione dell'energia elettrica. Noi abbiamo la struttura normativa più adeguata possibile. Mai abbiamo avuto una struttura normativa come quella di questo terremoto. Abbiamo le risorse finanziarie, abbiamo le risorse anche umane. Adesso quello che c'è è da mettere in rotazione questa produzione industriale che sarà la macchina della ricostruzione. Per esempio, noi abbiamo 225 casette che entro il 30 ottobre verranno collocate. E poi ho consegnato al Presidente Gentiloni il dossier riguardante gli incendi. Noi abbiamo avuto un grande danno al nostro patrimonio boschivo ma anche alla nostra capacità di collocazione turistica. Dobbiamo determinare che si riconosca lo stato d'emergenza e dall'emergenza arrivino anche le dotazioni che ci occorrono. Paolo, non abbiamo ricordato che nelle ultime ore purtroppo il terreno sotto Campotosto e Capitignano è tornato a tremare. Quindi, insomma, c'è anche ancora la paura del terremoto in quelle zone. Terra che non la smette purtroppo di provocare dei terremoti e di provocare anche ansia alle persone. Tu che sei stato lì questa mattina, che cosa hai potuto capire dello stato d'animo anche delle persone, Paolo? Sì, Alfredo, è stato purtroppo così perché nelle ultime ore, negli ultimi giorni ci sono state altre scosse di terremoto ma ormai parlavamo con alcuni residenti, con alcuni abitanti di Capitignano. Purtroppo si è fatta l'abitudine a queste scosse di terremoto. La paura c'è sempre. Il Paese ovviamente non è con tutti i suoi residenti perché molti già dal 2009 decisero di lasciare Capitignano per trasferirsi in altri paesi, in altre zone della nostra regione o per andare verso la capitale. Ma ovviamente la paura resta anche se purtroppo a Capitignano ma come anche a Campotosto in altre zone qui in provincia dell'Aquila si sta facendo un po' l'abitudine a queste scosse di terremoto. E proprio di questo ha parlato anche il primo cittadino di Capitignano Maurizio Pelosi che abbiamo ascoltato il sindaco di questo centro uno tra i più colpiti proprio della regione dal terremoto ma anche dal maltempo dello scorso inverno e proprio il sindaco ha fatto riferimento a questa assuefazione della popolazione proprio alle scosse di terremoto. Allora con il contributo della regia possiamo andare ad ascoltare proprio il primo cittadino di Capitignano. Il sindaco di Capitignano Maurizio Pelosi soddisfatto oggi per la visita del premier in paese la testimonianza e la vicinanza dello Stato? Questo oggi dimostra la vicinanza dello Stato la vicinanza della regione la vicinanza della struttura commissariale guidata da dottore Errani non avevo dubbi su questo, li ringrazio perché ripeto oggi per noi è importante inaugurare questa scuola perché significa che comunque c'è la volontà di ripartire e questa è fatta con tutte le norme antisismiche quelle più recenti, è super sicura e questo a noi fa piacere la visita del primo ministro ci dà la possibilità diciamo di avere anche visibilità cosa per noi è abbastanza rara da avere nonostante comunque noi stiamo dentro più crateri purtroppo e abbiamo tante tante inagibilità a Capitignano ancora oggi la situazione a Capitignano la luce delle ultime scosse è brutto dire ci sono persone che si stanno assuafacendo a questo, non va bene da un punto di vista chiaro, non bisogna perdere la speranza, la pazienza, la forza di volontà di andare avanti noi già abbiamo a monte dal terremoto del 24 agosto culminato il 18 gennaio con Epicentro a Capitignano proprio e diciamo c'è stato uno spostamento delle persone verso il progetto case dell'Aquila adesso stiamo realizzando, stiamo procedendo a tappe forzate grazie anche all'impegno forte della Polizia Civile Abruzzese e Nazionale con la costruzione delle SAI noi costruiremo adesso in questa fase 18 SAI quindi 18 famiglie torneranno a Capitignano credo entro la metà di novembre e questo ci dà una soddisfazione io chiedo al Presidente del Consiglio innanzitutto diciamo di verificizzare tutte le procedure dare più potere ai sindaci e se è il caso crediamo che sia indispensabile poter fare, istruire le pratiche dai comuni stessi quelle almeno della ricostruzione leggera come è avvenuto nel 2009 finché diciamo non c'è stata l'istituzione dell'ufficio speciale che ha bloccato tutto però fino a quel momento io lo posso dimostrare tranquillamente l'ho dimostrato carte alla mano noi abbiamo riportato a Capitignano almeno nel particolare 150 famiglie in casa e abbiamo dunque ascoltato il primo cittadino di Capitignano Maurizio Pelosi si è parlato di ricostruzione proprio di fronte la scuola dell'infanzia che è stata inaugurata oggi dal Premier del Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni lo vedete dalle immagini proseguono i lavori di ricostruzione di uno dei tanti edifici di Capitignano dunque i segni del terremoto ci sono ancora in questo paese ci sono in tanti paesi del comprensorio ma come ha detto il primo cittadino di Capitignano la voglia di ricominciare di andare avanti c'è e l'inaugurazione il taglio del nastro di questa scuola qui in Viale Roma a Capitignano è un segno tangibile anche della presenza e della vicinanza dello Stato come testimoniato anche dalla visita del Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e dunque tutto da Capitignano io ringrazio Gaetano Tereo per l'assistenza tecnica ringrazio anche voi che ci avete seguito e restituisco la linea allo studio grazie grazie a Paolo Lorenzetti per il collegamento in diretta da Capitignano noi restiamo sempre nell'argomento sicurezza delle scuole perché questa mattina Capitignano l'avete ascoltato dalle parole di Paolo Lorenzetti c'era anche il commissario alla ricostruzione Vasquerrani che ha assicurato che tutte le scuole saranno messe in sicurezza siamo davvero a poche ore dallo squillo della prima campanella per quanto riguarda l'apertura dell'anno scolastico e sulla sicurezza delle scuole è intervenuto anche il sindaco di Chieti Umberto Di Primio questa mattina che ha ribadito che non servono più parole ma fondi quindi soldi per assicurare ai comuni le risorse necessarie per la messa in sicurezza delle scuole andiamo ad ascoltare il primo cittadino di Chieti guardi noi come comuni abbiamo la vulnerabilità sismica già verificata su tutti gli immobili pubblici compresi le scuole la vulnerabilità sismica lo dico una volta per sempre una volta in più non vuol dire che le scuole debbano essere chiuse almeno che non ci sia una dichiarazione di inagibilità di quelle scuole la vulnerabilità sismica è il risultato della risposta di quella struttura ad un eventuale sisma su tutte le scuole abbiamo avviato progetti che vanno dal miglioramento all'adeguamento sismico e anche persino all'adeguamento alle norme di antincendio che nella maggior parte direi in tutte le scuole mancavano fino a quando noi sette anni fa non abbiamo iniziato ad adeguarle tutte ne abbiamo adeguate almeno un 50% o almeno un 50% di scuole sono state ad oggi interessate da lavori di miglioramento all'adeguamento sismico o di miglioramento all'adeguamento del sistema antincendio dobbiamo continuare su questa strada lo stiamo facendo con fondi propri ma abbiamo bisogno lo dico oggi che il Presidente del Consiglio è in Abruzzo abbiamo bisogno non delle chiacchiere che spesso fa la Regione o delle promesse che ci fa il Governo nazionale ma di soldi all'interno delle casse non del mio comune ma di tutti i comuni italiani se vogliamo che le scuole vengono adeguate chiudiamo adesso quest'ampia pagina che abbiamo dedicato alla visita del Presidente del Consiglio Gentiloni più in generale alle problematiche legate al terremoto e alla sicurezza delle scuole adesso andiamo a Pescara dove il Movimento 5 Stelle critica il progetto dell'amministrazione Alessandrini di riqualificazione delle aree di risulta critiche sia sul piano procedurale che sul merito tecnico del progetto e poi i 5 Stelle hanno anche sottolineato come non c'è stato il coinvolgimento del Consiglio Comunale che è pure organo sovrano su questi argomenti allora andiamo ad ascoltare insieme il servizio Il progetto di riqualificazione delle aree di risulta di Pescara deve passare obbligatoriamente dal Comitato Via Regionale e quanto sostiene il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle di Pescara critico nei confronti degli aspetti procedurali e tecnici del progetto che in autunno arriverà nell'aula del Consiglio Comunale criticità che i 5 Stelle hanno condensato in un documento di osservazione al progetto a partire dalla strada sotterranea che per l'assessore civitarese è una strada di quartiere mentre secondo il codice della strada dicono i grillini è una strada urbana di scorrimento pertanto automaticamente soggetta via a norma di legge Invece abbiamo visto che questo progetto viene in qualche modo sottoposto ad una valutazione quindi del fatto che si possa o meno mandarla a valutazione di impatto ambientale e questo dal nostro punto di vista è sbagliato poiché la via da legge risulta già obbligatoria e quindi si sarebbe già dovuta fare oltre a questo abbiamo evidenziato una serie di caratteristiche di criticità che riguardano la documentazione cioè carenza di documentazione perché lo studio di fattibilità che deve essere inviato a via deve contenere delle verifiche specifiche che non sono presenti Il Movimento 5 Stelle si sta preparando alla battaglia in Consiglio Comunale anche attraverso una assemblea pubblica che si terrà nei prossimi giorni non piace la predominanza del privato nel progetto preoccupano aspetti non considerati come la qualità ambientale o l'inserimento del progetto nella mobilità urbana i grillini temono che vengano sprecati 12 milioni di euro del masterplan sui 40 totali necessari alla riqualificazione dell'area di risulta e chiedono che tutte le forze politiche vengano coinvolte nel luogo deputato alla discussione il Consiglio Comunale che fino ad ora non è stato sentito nemmeno con un atto di indirizzo proprio un grande errore proprio nella procedura nella strategia da parte di chi governa la città in questo caso quello che è stato preso in considerazione è stato il solo ed esclusivo aspetto economico che se deve esserci assolutamente per la fattibilità di un progetto non può essere l'unica clausola l'unica cosa da prendere in considerazione perché il centro della città e lo sviluppo per i prossimi tentani della città ha obiettivi maggiori che non la sola fattibilità economica dei tempi presenti Adesso ci spostiamo a Teramo da oggi da qualunque luogo del mondo la biblioteca delfico sarà virtualmente visitabile a 360 gradi sulla nota piattaforma di Google Maps una tecnologia innovativa che permetterà di valorizzare culturalmente il territorio che è attualmente utilizzata solo da grandi realtà museali come gli uffizi di Firenze sentiamo il servizio realizzato da Tania Bonici Castelli La biblioteca delfico di Teramo tra le più antiche e prestigiose del centro Italia sarà visitabile virtualmente in tutto il mondo grazie ad una nuova tecnologia che prevede l'utilizzo della nota piattaforma Google Maps in un click si potrà avere la visione a 360 gradi di tutto il suo patrimonio interno un'esperienza unica adottata solo da grandi realtà museali come gli uffizi di Firenze semplicissimo basta andare o su il sito dell'istituzione stessa della biblioteca oppure direttamente su Google Maps e tutte le piattaforme di Google Google Street View e si può visitare virtualmente la biblioteca e in particolare le sale più belle della biblioteca che sono sia artisticamente architettonicamente molto rilevanti e poi ovviamente custodiscono dei volumi incredibili questo ci dà la possibilità 7 giorni su 7 24 ore su 24 365 giorni l'anno di poter visitare l'istituzione forse più importante culturale una delle più importanti del nostro territorio e sicuramente questo rappresenta una promozione importante del nostro territorio assolutamente questa è una delle forme più importanti veloci e potenti per promuovere il nostro territorio per poter permettere ad ogni persona del mondo di vedere quante sono e di quale qualità sono le bellezze che il nostro territorio offre in questo grande progetto di promozione territoriale hanno giocato un ruolo importante i volontari della Delfico 6 studenti del servizio civile della provincia di Teramo che hanno collaborato alla digitalizzazione del patrimonio cartaceo e audiovisivo della biblioteca tu stai digitalizzando un po' del patrimonio della biblioteca provinciale di Teramo precisamente che cosa? allora diciamo che mi sto occupando del comparto audio quindi bobbine degli anni 40-60 il fondo è quello di Fernando Aurini che è stato un giornalista importante per la RAI sto cercando di digitalizzarle in mp3 formati fruibili per poi farle sentire diciamo a tutti la biblioteca Delfico rappresenta Teramo un luogo vivo e di studio per tanti giovani ha sottolineato il presidente della provincia di Teramo Renzo Di Sabatino un punto di riferimento culturale che oggi conta 9.000 iscritti si è conclusa con la consegna di 25.727 euro la campagna promossa dal Banco Alimentare Abruzzo denominata aggiungi 14 posti a tavola basta un euro premiate anche con tre biciclette donate questa volta dal Banco Alimentare le cassiere che hanno raccolto più fondi all'interno del centro commerciale Iper di Colonnella soldi che serviranno a preparare 360.000 pasti andiamo a vedere insieme il servizio 25.727 volte grazie e tanti sono stati i cittadini abruzzesi che hanno aderito alla campagna del Banco Alimentare in collaborazione con Iper intitolata aggiungi 14 posti a tavola basta un euro i 25.727 euro raccolti nel punto vendita della grande distribuzione a Colonnella e donati al Banco Alimentare questa mattina attraverso la consegna di un assegno si trasformeranno in oltre 360.000 pasti che saranno distribuiti alle 47.000 persone indigenti assistite tramite i 241 enti convenzionati con il Banco Alimentare abruzzese aggiungi i 14 posti a tavola dono un euro e il calcolo che noi con un euro riusciamo a produrre tra virgolette perché è quello riusciamo a raccogliere 14 pasti che è l'equivalente di 7 kg noi ringraziamo la grande I che ci ha dato questa opportunità ringraziamo i clienti della grande I che hanno aderito 25.727 volte e soprattutto ringrazio i miei collaboratori e i nostri volontari che poi ci permetteranno di distribuire in tutta la regione i pasti che abbiamo raccolti i prodotti alimentari che ci permetteranno con questa cifra di continuare a raccogliere e a distribuire tra pochi giorni ricorre il ventennale della fondazione del Banco Alimentare siamo all'interno di questo capannone a Pescara vogliamo raccontare che cosa fa il Banco Alimentare il Banco Alimentare nasce 20 anni fa con la prima giornata nazionale della colletta alimentare in realtà lavora tutto l'anno 365 giorni l'anno ed è aperto tutti i giorni noi raccogliamo prodotti alimentari dalla grande distribuzione organizzata dall'azienda dell'agroalimentare e li distribuiamo a circa 191 strutture in Abruzzo che si occupano della povertà vanno dalle mense per i poveri alle case d'accoglienza alle caritas parrocchiali ad associazioni che fanno pacchi alle famiglie questo grazie soprattutto ai volontari abbiamo circa una quindicina volontari che costantemente ci danno una mano e che ci permettono di poter rispondere a questi bisogni ringraziamo l'Abruzzo il popolo abruzzese perché questo anniversario dei nostri vent'anni che tra l'altro cade il 9 settembre ci ha permesso di incontrare altre persone di incontrare altri sostenitori e tra virgolette anche di festeggiare insieme per questa grande opera che oramai è presente da vent'anni nella regione Abruzzo e adesso apriamo l'ampia pagina dello sport iniziamo dal Pescara dove recuperano Bovo e Fornasier mentre restano fermi Latte Latte e Mancuso che quindi salteranno anche il match di dopodomani con il Frosinone rientrano dalle convocazioni alle nazionali giovanili del Sole e Capone quest'ultimo potrebbe trovare spazio all'interno del tridente di Zeman in attacco ballottaggio fra Pettinari e Gansi intanto il difensore Antonio Balzano ha espresso la sua soddisfazione per essere tornato a Pescara vediamo Sì da sempre c'è stata la volontà di cioè sapevo che prima o poi sarei ritornata a casa per me è un grande onore quindi sono felice di questo e adesso bisogna mettersi sotto e cercare di fare quello che si deve c'è sempre stato qualcosa ma mai nulla di concreto penso che anche negli anni scorsi ogni mercato c'era torno a Balzano torno a Balzano però non c'è mai stato nulla di concreto si è concretizzato tutti gli ultimi giorni perché io avevo una situazione particolare a Cagliari che non rientravo nei piani della società e quindi sarei dovuto andare via avevo diverse situazioni e naturalmente la mia volontà era maggiormente quella di tornare qui è cambiato spero sotto l'aspetto positivo perché comunque ho un po' di partite le ho fatte quindi un po' di esperienza naturalmente la acquisisci è un ritorno a casa perché ho detto prima ho voglia di levarmi qualche sassolino dalle scarpe che ne ho messi tanti in questi due anni sono qui per far vedere che ancora Antonio può dire la sua che Antonio non è perché ha 31 anni è finito Antonio ha 31 anni e ha ancora la voglia di quando aveva 20 con il mister all'inizio bisogna avere un po' di tempo per per capire bene gli schemi di gioco e il modo di giocare quindi naturalmente io lo conosco già di sicuro posso dare una mano parlando con tutti i ragazzi ma vi posso garantire che tutti quanti hanno già preso la mentalità del mister perché è giusto che sia così ma il mister non è una persona che parla tanto lo sappiamo mi ha solo salutato come stai mi ha fatto domande su se avevo fatto allenamento con loro questa roba qua roba tecnica non mi ha poi lo guardi negli occhi che magari è felice di vederti però non è un tipo che che esprime tutta questa felicità benissimo è un parolone perché comunque purtroppo per una serie di cose non sono potuto andare in ritiro quindi ho saltato una parte e di conseguenza mi ci vorrà naturalmente un po' per entrare in forma ma questo non mi spaventa perché tanto col mistero in forma ci entri prima o poi adesso invece scendiamo di categoria andiamo in serie C per parlare del Teramo Stefano Amadio si è allenato regolarmente con il gruppo praticamente recuperato il centrocampista che però sente ancora fastidio quando calcia il pallone però non dovrebbero esserci problemi per la partita con il Vicenza in dubbio invece in forte dubbio Barbuti che ha un problema al tallone per lui chance ridottissime di convocazione e dopo la settimana di sosta forzata prevista dal calendario il Teramo come detto affronta il Vicenza trasferta complicata per la quale si candida l'attaccante ex lumezzane Antonio Bacio Terracino in gol già la prima di campionato con il Mestre senti Antonio facciamo un passo indietro ultimi secondi di gara Portogruaro contro il Mestre Graziano mette in avanti quella palla la disperata tu la vedi arrivare e cosa pensi? appena l'ho vista arrivare distinto me la sono portata davanti ho visto che il difensore non mi ha attaccato ho provato a fare un altro passo in avanti ho tirato subito senza pensare due volte per fortuna è andata bene qual è stato il tuo primo pensiero in quel momento? il mio primo pensiero sono esposo in me delle emozioni grandissime che comunque segnala il 94esimo è un'emozione quasi indescrivibile sono stato contento sia per me ma soprattutto per la squadra che comunque ha dimostrato di avere carattere ci abbiamo provato fino alla fine comunque segnala il 94esimo è una soddisfazione in più la seconda domanda d'obbligo è come stai e se sei pronto per giocare eventualmente titolare a Vicenza ma io sto bene di certo non sono ancora al 100% speriamo che questa settimana comunque vedo se comunque la mia condizione sarà aumentata sicuramente perché queste due questa settimana di sosta comunque mi ha aiutato un po' negli allenamenti a ritrovare un po' di condizione poi vedremo in settimana il mister comunque farà le sue valutazioni e se vedrà opportuno farmi giocare io sono pronto la classifica dice che andrete ad affrontare una delle capoliste del Gironi B sì Vicenza è un'ottima squadra sappiamo che è punto a vincere però comunque noi andremo lì a fare la nostra partita come sempre come tutte le squadre già giocheremo sperando di portare a casa un risultato positivo l'intesa con Tullio e Foggia a che punto è? ma l'intesa c'è di certo comunque siamo all'inizio magari pian piano aumenterà sempre di più questa intesa speriamo di trovarla prima possibile al massimo così ci troveremo bene da qui alla fine domanda extra di tutti i tatuaggi che hai c'è qualcuno che ha un valore particolare un significato specifico? sì diciamo ho dei tatuaggi per la mia famiglia sono quelli lì che più hanno significato importante per me infatti quando segno li dedico sempre a loro indicando i tatuaggi grazie questa è l'intervista di Ania Cantagalli adesso scendiamo di categoria ancora andiamo in serie D prima di chiudere una notizia che riguarda il Francavilla scossone in casa della formazione francavillese il centrocampista ed ex capitano Matteo Milizia classe 93 unitamente al centrale difensivo Manuel Di Lallo classe 96 lasciano la casacca giallorossa entrambi nel torneo di eccellenza nella passata stagione sono stati tra gli artefici della cavalcata che è culminata poi con la finale nazionale playoff prima del ripescaggio in quarta serie Milizia cresciuto nella cantera del Francavilla vanta dalla sua circa 280 presenze con la maglia giallorossa di Lallo scuola pescara nello scorso campionato è stato per rendimento tre migliori fuori quota del torneo di eccellenza e questa era l'ultima notizia del nostro giornale il prossimo appuntamento con l'informazione del TG6 è alle ore 19 grazie per essere stati con noi vi auguro una buona giornata grazie a tutti a tutti a tutti ellos e quindi a tutti i nostri spettatori che vi auguro una buona giornata l'informazione vi auguro un po' di un'ultima notizia che vi auguro una buona giornata Grazie a tutti.